Signori, quest'oggi giochiamo a The Origins First Builder, un nuovo gioco di Essen che sicuramente qualcuno di voi avrà già a disposizione e ci avrà fatto un pochino di partite. Questa volta tentiamo il solitario, c'è una modalità di David Turzi diciamo preparatoria e poi ce n'è anche un'avanzata che trovate sul sito indicato sul manuale ma non mi sono ancora azzardato a metterci le mani sopra. Questa è anche l'occasione per sperimentare questo microfono che è un microfono wireless quindi in questo modo non sono dietro alla telecamera ma posso muovermi, posso addirittura andare nel bagno e continuare a parlare. Se non funziona significa che ho sbagliato qualcosa. Ok la modalità in solo che è un training mode indica come punteggio di vingita un 180 punti che mi pare assolutamente una follia. Secondo me hanno dato in pasto questo gioco a Turzi per lavorarci in un solitario e in base alle sue partite e alla sua media di punti è visto all'intorno ai 180 punti. Purtroppo che non si riesce a fare questo punteggio neanche con la partita multiplayer dove ci sono molti più round. Tralasciando quella parte di ambientazione perché naturalmente qua una società aliena di qualche tipo di qualche dimensione lì da qualche parte dell'universo si tratta nella sostanza di un piazzamento dadi dove andremo a posizionare i nostri dadi inizialmente due che sono sulle basette del nostro colore. E andremo a fare le variazioni nella parte lì in alto. Ognuno di questi spazi ha dei colori. Queste sono le astronavi. Una volta piazzato il dado vedete qua delle rotelle hanno i sei numeri. Questo valore andrà ad incrementare. Quindi sarà più difficile per i giocatori rieseguire quell'azione. Naturalmente una volta raggiunto il sei si ruota ancora e diventa uno. Poi nel corso della partita andremo a costruire degli edifici perché ovviamente siamo dei costruttori. Noi iniziamo con una agora e con un palazzo con un dischetto per colore. Allora se vedrete delle incongruenze perché in questo gioco sono un pochino in baglia dei colori. Quindi per esempio il giallo e l'arancione che sono netti per esempio sulle astronavi sono un po' meno netti sui dischi. Anzi assolutamente uguali per me. Quindi se scambio le cose non posso fare altrimenti. E anche i dadi tra l'altro. I dadi sono veramente terribili. Un arancione e un giallo ma proprio lì lì sono. Poi abbiamo molto importante il tracciato militare che qualcuno che l'avrà già giocato avrà scoperto la forza e prevalentemente se ci avete giocato mi saprete dire in base alle esperienze. Io ho notato che se un giocatore va su questo tracciato come vedremo e fa tante azioni militari fa veramente molti punti e se gli altri non ci stanno dietro risulta molto molto sgravo. Qua invece abbiamo il tracciato dello zodiaco chiamiamolo così. Ci sono queste carte che rappresentano tre segni ziracchiali quindi l'acquario, gemelli e pesci in questo caso ma ovviamente ci sono tutti gli altri segni. E saliremo su questi tracciati per ottenere quelle carte che danno bonus lungo la partita, i tracciati punti di fine partita. Allora il gioco si svolge lungo una serie indeterminata di turni e ci sono tutta una serie di trigger. Per esempio nel momento in cui noi dobbiamo rifillare il display di dadi che sono chiamati cittadini e non ce ne sono più nella riserva del colore corrispondente. Oppure nel momento in cui un giocatore raggiunge il massimo di ognuno di questi tre tracciati cosa che è veramente molto difficile. Oppure quando si svuotano due di questi spazi di costruzione, quei dischetti. Oppure quando non ci sono più ori al di sopra di queste carte. Quindi nel nostro turno andremo a fare una di queste operazioni. Visitare quello che chiamiamo noi simpaticamente un sito di incontri. So che in italiano fa schifo dirlo così, però è una cosa che fa ridere, quindi lo useremo bonariamente. Andiamo a visitare un sito di incontri. Chiudere un distretto, costruire un livello della torre oppure far accrescere la popolazione. Oltre naturalmente al passo. Un round finisce quando tutti i giocatori avranno passato girando la carta dal lato pass. Come visitiamo un sito di incontri in questo gioco? Andando a utilizzare i nostri dadi, inizialmente due, e il nostro arconte che è la pedina del nostro colore. Quindi vado a selezionare un dado e lo andrò a mettere in uno degli spazi. Ora se il valore del dado è maggiore o uguale al valore dell'astronave non ci sono problemi. Quando eseguo un'azione subito questo incrementa di uno. Se invece l'astronave ha un livello maggiore devo pagare la conoscenza per la differenza. In questo caso pagherei una conoscenza. Se non ho la conoscenza per pagare questo costo ovviamente lì non posso fare un piazzamento. Dovrò fare un qualcos'altro. Dopo che ho fatto ruotare quindi l'astronave andrò ad eseguire una delle due azioni che vedete sopra in grigio. Se ho operato con un dado di valore 6 andrò a fare entrambe le azioni in grigio. Se il colore del dado corrisponde all'azione speciale che vedete nel token colorato andrò a fare anche questa azione. Io ovviamente posso mandare un dado arancione nello spazio rosso. Farò una delle azioni in grigio ma non faccio quella in rosso. Se invece mando un arconte in uno spazio quello non ha numero quindi posso andare con un valore di astronave qualsiasi, andare addirittura con un 6, devo sempre ruotare come al solito e farò una delle due azioni. Inizialmente il nostro arconte non ha colore quindi non posso fare le azioni speciali colorate tuttavia nel corso della partita andrò andando a spostare questi dadi poi vediamo come. Questo significa che oltre a farci punti di fine partita e anche durante il gioco l'arconte acquisirà questi colori quindi farà l'azione speciale in questo caso rosso o giallo oppure arancione quel che è. Le azioni in realtà sono molto semplici quindi prendersi tre risorse, tre risorse, prendersi un oro, una risorsa qualsiasi. Questa qua molto importante è quella che ci fa salire nell'arena e ci fa fare un combattimento. Ora questa sarebbe l'arena quindi noi ci muoviamo lungo questo percorso se riceviamo un movimento. Nel momento in cui attraversiamo un confine che sono questi spazietti qui andiamo ad ottenere uno di questi segnalini supremazia che alla fine del nostro turno possiamo spendere per fare un turno addizionale. Nel giocatore in solo questi hanno un altro utilizzo. Ora muovendoci su questo tracciato possiamo quando vedete l'icona questa qua di combattimento fare un'azione di attacco. Un'azione di attacco tra virgolette è semplicemente un modo per ottenere dei punti e delle risorse. Prima di tutto io vado ad ottenere le risorse o il bonus indicato nello spazio del mio dischetto. Poi farò un punto per ogni disco degli avversari più indietro di me più un punto per ogni confine che avrò superato. Quindi se sono in questa posizione farò un punto perché il nero è più indietro di me più uno più uno più uno. Nota che queste due operazioni le posso fare in qualsiasi ordine quindi posso avanzare di uno più combattimento o viceversa. Nel momento in cui vedete un martello quando ando a pagare un grano vado a fare un'azione di costruzione. Quindi costruisco uno dei cinque edifici che vedete nel display. Per costruire devo pagare la quantità di conoscenza indicata da 0 a 3 e la quantità di pietra indicata sulla tessera. Andrò quindi a prendere la tessera che posiziono adiacente a una tessera preesistente ortogonalmente per esempio questo è inammissibile e vado subito ad ottenere il bonus scritto sulla tessera. Ora con i miei edifici cercherò di posizionare questo pattern per avere dei punti e degli ori bonus. Dopo che ho comprato un edificio quindi tutto slitterà verso l'alto e andrò a rifillare lo spazio più in basso una tessera del colore di quella che ho appena piazzato. Se ho preso rosso aggiungerò un altro rosso. Con questa azione vado a prendere un dado bianco che sono chiamati speakers. Gli speakers sono qui e sono dipendenti dal numero di giocatori. Prenderò uno di questi dadi e li metterò nella mia riserva personale. Non vanno sopra una basetta e sono dadi temporanei. Quindi li uso nel mio turno e poi alla fine del round devono essere restituiti. Quando vedete questa azione pagando una pietra salgo di due in un tracciato costellazione o oroscopo eccetera eccetera. A mia scelta salgo di due non posso splittare le salite nel momento in cui salgo con quella operazione vado a prendermi la carta ovunque essa sia se nel display oppure se ce l'ha qualsiasi altro giocatore. Con questa azione io vado ad acquistare un nuovo dado che compro da questo display andando a pagare il necessario quantitativo di conoscenza. Quindi comprerò questo dado, slitto tutto verso sinistra. Dopodiché ritiro un dado dalla riserva del colore corrispondente al dado che ho appena preso. E questo come detto prima è una condizione di trigger quando non posso più rifillare col dado di un colore. Il dado che io prendo quindi dovrà andare al di sopra di una basetta disponibile. Quindi inizialmente ne abbiamo due e dobbiamo sbloccare delle altre basette. Il modo per farlo è utilizzare l'azione, un'azione specifica di accrescita della popolazione. Andando da sinistra verso destra vado a pagare il quantitativo di grano indicato, per esempio il primo o due, e sblocco la basetta piazzandola verso l'alto. Adesso può accogliere un nuovo cittadino. Con l'azione sotto vado a pagare una pietra per salire di uno in un tracciato costellazione, tuttavia quest'azione non mi fa prendere la carta. L'azione che vedete qui mi fa pagare uno da uno a tre grani per far accrescere da uno a tre un dado, oppure salire da uno a tre nel tracciato arena. Un'altra azione che posso fare è chiudere un distretto, quindi nel momento in cui ho chiuso un distretto, quindi vi rimane uno spazietto qui al centro, posso dichiarare quest'azione. A quel punto prenderò uno dei miei dadi disponibili, naturalmente devono essere sulla mia plancia, lo vado a togliere dalla basetta, non servirà più, e lo vado a piazzare esattamente in questa posizione, mantenendo il valore. Dopodiché attiverò ogni edificio adiacente col colore corrispondente, quindi in questo caso i rossi. Il palazzo non si attiva mai, la gorà, se attivato perché è adiacente, si applica l'effetto come indicato. Ora questi dadi varranno un tot di punti a fine partita in base all'altezza del palazzo corrispondente o della torre. Quindi in questo caso se l'altezza sarà 1, questo varrà 4x1, se invece l'altezza rossa sarà di due dischi, farò 4x2 e così via. Come indicato prima, non appena chiudo un distretto, se soddisfo il requisito di una di queste carte costruzione, posso reclamare il bonus, quindi l'oro al di sopra se sono il primo, e i punti di sinistra. Se invece lo faccio un'altra volta o i giocatori successivi, si prendono solo i punti di destra. L'azione costruire il livello della torre significa semplicemente aggiungere dischetti al di sopra del palazzo. Ora per esempio voglio accrescere la torre rossa, vado a contare il numero di dischi attualmente presenti, in questo caso 1, pago 1 oro che tuttavia è una risorsa jolly in questo gioco, come in moltissimi altri, e vado a prendere un dischetto rosso dalla riserva corrispondente. Quindi la vado a piazzare al di sopra in questo modo, se voglio rifare quest'azione sul rosso, adesso ci sono due dischi, devo pagare due ori, e quindi prendere il terzo. Nel momento in cui si svuotano due di questi cinque slot, si triggera a fine partita. L'ultima azione possibile è quella del passo. Quando faccio un passo, andrò a riprendermi tutte le mie basette con i miei dadi, il mio arconte, dopodiché i dadi invecchieranno, quindi incrementano di 1 il valore. Quando il dado di livello 6 deve incrementare ulteriormente, questo naturalmente muore, perché è un cittadino anziano, quindi il dado verrà piazzato in questi slot da sinistra verso destra, e questo andrà a determinare, oltre ai punti di fine partita e lungo la partita, anche il colore del nostro arconte, che adesso potrà fare l'azione bonus rossa. Tuttavia, se nella partita faccio scendere un altro dado dello stesso colore, non andrà in questo slot, quindi devono essere di colori diversi. Tuttavia, scarto il dado e prendo i punti nello spazio più a destra. Per esempio, se così faccio un punto, se così faccio tre punti, eccetera, eccetera. Ci sono due step aggiuntivi alla fine del round. Prima di tutto, andiamo ad indietreggiare con i nostri segnalini sull'arena. Quindi, se per esempio, mi trovo in questo spazio, io dovrò indietreggiare fino allo spazio successivo del confine che vedete qua. Conviene avanzare e superare il confine. A quel punto, se sono così, non posso indietreggiare. Però se sono avanzato solo di due spazi, alla fine del round indietreggerò. Un'altra cosa, vengono assegnate le carte. Quindi, alla fine del round, in base alla nostra posizione, chi è più avanti riceve la carta corrispondente, ovunque essa sia. A questo punto inizierei subito una partita in solitario. Ci sono naturalmente moltissime opzioni. Io punto moltissimo sul tracciato militare, come al solito, perché lui salirà in automatico il bot. Come vedete, l'unica sua presenza è un dischetto di un colore non giocante che comunque contribuisce e mi ostacola nel percorso. Io vorrei, in sostanza, prendermi degli edifici subito e cercare di completare più velocemente possibile il pattern di una carta, che comunque è una cosa buona. Ora, il punteggio di questi tracciati dell'oroscopo o della costellazione è veramente molto importante. Noi saliremo in questo modo e andiamo a annullare quello più in alto. Per esempio, se sono 70 qui, questo l'annullo e vado a sommare i valori degli altri due. E questi, per esempio, se arrivo in questo modo, tutti al massimo farò 70 più 70. Quindi questo è un'enorme fonte di punti. Tuttavia, salire lì ti devi proprio dedicare a quello. Mentre questo sembra più renumerativo perché comunque sali parecchio se fai le azioni e ti fa veramente molti punti. Allora, in sostanza, io avrei bisogno della pietra. Prima di tutto, per fare degli edifici. Il che non è male. Quindi, utilizzo il mio arconte, andrò in questo spazio viola, sale di uno il valore. Tuttavia, nel giocatore in solitario quando faccio salire una di queste astronavi devo farne salire un'altra adiacente. In questo caso c'è solo quella a sinistra adiacente altrimenti o a sinistra o a destra. Quindi sale questo. E qua viene l'utilizzo speciale dei token superiorità durante il solo. Li posso scartare per annullare l'avanzata diciamo di una astronave adiacente. Tuttavia, se l'astronave adiacente è A6 non la posso girare per farla diventare uno. E qua la bastardata perché bisogna andare fisicamente con una pedina per far salire un 6 cioè farlo diventare un 1. Quindi in questa posizione io in sostanza mi vado a prendere tre pietre che sono assolutamente basilari. Io ovviamente faccio un'azione dietro l'altra non ci sono intelligenze artificiali che fanno cose. Dopodiché vorrei andare a costruire e in questo caso vorrei utilizzare il dado arancione. Dado arancione che potrebbe essere giallo però abbiate pazienza che va in questo spazio vado ad incrementare l'astronave arancione e anche un adiacente direi che facciamo il rosso. A questo punto farò una di queste due azioni e anche l'azione speciale perché il colore corrisponde. Corrisponde quindi mi prendo innanzitutto un dado bianco di valore 4 che è lo speaker e quello ci sta. Dopodiché faccio azione di costruzione e andrò a costruire questo edificio rosso ok ha un costo di zero conoscenza o pergamene ma costa tre pietre che ho appena guadagnato. Questo in sostanza mi fa guadagnare due punti per ogni edificio rosso e due punti per ogni freeman che ho. Ho attivato l'effetto quindi ho due freeman che sarebbero due dadi quindi sono quattro punti due per ogni dado che ho. Una cosa che farei assolutamente utilizzare il dado 4 vado a piazzarmi qui quindi faccio salire questo a tre e di conseguenza faccio salire questo sì scarto una pietra ok che avevo dall'inizio per salire di due su un tracciato io direi di salire in quello dei pesci uno e due e mi prendo la carta dei pesci la carta dei pesci mi dice che posso trattare ogni azione bonus quindi quelle colorate come se fosse guadagnare un oro quindi se non mi piace quello che c'è scritto in alternativa mi prendo un oro che è sempre buono perché è jolly poi facendo questa roba qui faccio anche l'azione bonus perché è dado rosso vado a spendere una pergamena la pergamena mi fa salire di uno nel tracciato militare oppure fare un combattimento io salgo di uno supero il primo confine e quindi mi prendo uno di questi token dopodiché ho l'ultima azione quindi ho il mio speaker che posso andare uno spazio 4 una risorsa per tipo oppure voglio del grano perché voglio sbloccare le basette per acquistare altri dadi alzo questo di 4 già che ci sono spendo il mio token superiorità per non far avanzare un'astronava adiacente ovviamente quello bianco non ha un colore quindi non faccio l'azione bonus colorata ma comunque mi prendo i tre grani allora tre grani che sono questi ne spenderò due per l'azione di accrescita popolazione per sbloccare questo questa basetta direi che a questo punto io ho completato le mie operazioni ora alla fine del round il dischetto del bot praticamente si sposta nello spazio indietro al secondo secondo confine quindi farà uno due tre quattro cinque in realtà con questa training mod ci sono esattamente cinque round quindi non contano i trigger del gioco normale semplicemente ci sono cinque round e qual problema devo fare 180 punti che in cinque round mi pare una follia quindi alla fine del round mi andrò a recuperare le mie pedine il mio arconte gli spi che naturalmente sono temporanei incrementano di uno il valore e vanno nel display se sono cinque e devono incrementare vengono ritirati perché questi sono dadi speciali che non hanno sei e non hanno uno questi invece che li riprendo li faccio diventare cinque allora la cosa che farei subito immediatamente è andarmi ad acquistare un dado nuovo assolutamente sì per fare questo manderei il mio arconte incrementerei quello giallo di uno poi acquisto un dado da questo display tuttavia ho un oro e non ho altre conoscenze da dare potrei prendere quello rosso scarso da uno che non mi fa fare assolutamente niente in questo round allora guarda io spendo un oro per pagare una pergamena e mi compro questo dado ovviamente la metto sopra una basetta disponibile non so se sia giallo se sia arancione non ne ho la più palida idea questo slitta tac e tac e tac e lo mettiamo qua ok questa era un'operazione assolutamente qui sono ah questo dovrebbe essere giallo forse quindi posso andare qui e valore 2 l'astronave sale di 3 ma faccio salire anche questo a 4 allora eseguendo questa roba qui il dado corrisponde mi prendo una risorsa a scelta non oro allora spendo 2 grano e per ogni grano speso avanzo di 1 su questo tracciato buono poi mi prendo una risorsa scelta adesso ho bisogno urgentemente di risorse allora una cosa che faccio è mandare quindi l'arancione qui fa salire di 1 questo e facciamo salire di 1 il viola mi prendo 3 grani e poi mi prendo lo speaker in questo caso quello 5 che non è male dopodiché utilizzo il rosso allora con il rosso vado qui faccio salire questo quindi farò salire anche questo o meglio questo prendo 3 pergamene ma una la spendo per fare questa azione speciale con l'azione speciale quindi posso fare o un avanzamento o un combattimento qui io avanzo di 1 per superare il confine mi prendo 1 di questi token speciali e poi mi rimane lo speaker allora se vado qui potrei fare il combattimento che è importante ma poi questo indietreggia no mi prendo delle pietre e questo sale di 1 a 4 questo a 6 e non sale ulteriormente quindi a fine round questo avanzerà ancora di uno spazio questo deve essere ritirato perché valore 5 ok mi riprendo la mia roba quindi questi due diventeranno dei 6 dovrò prendere anche dei dadi bassi perché sennò ovviamente non so quale sia l'arancione e quale sia il giallo se ci pensassero bene gli editori a fare queste cagate forse non sarei qui a rompere i maroni ogni volta qui in sostanza questo va a 1 ma uno di questi due incrementa no perché utilizzo il token superiorità mi prendo il dado speaker bianco come al solito 3 grani oppure un'azione di costruzione ah tra l'altro non ho rifillato qui questo andava slittato e aggiungevo un altro rosso perché ho preso un rosso giusto allora io per completare questa roba di edifici che ho devo avere due blu quindi acquistare questi per esempio questo questo dà punti in base alle carte zodiaco che ho allora prima di tutto dado rosso qui essendo di valore 6 faccio entrambe le azioni grigie quindi mi prendo tre pergamene spendo una pietra avanzo di uno su un tracciato vediamo i gemelli quando passo guadagno una risorsa di base per ogni spazio che devo indietreggiare nel tracciato militare se vado avanti qui per esempio indietreggio di due mi prendo due risorse a scelta quindi direi che mi prendo i gemelli avanzo di due in questo tracciato quindi ho la seconda carta tra l'altro alla fine del round nel solitario io devo casualmente restituirne tutte tranne una quindi sono avanzato di lì ho preso le carte ho preso le pergamene faccio l'azione bonus rossa quindi assolutamente spendo una pergamena per fare un'azione di combattimento farei uno o due punti perché lui è più avanti di me quindi no avanzo di uno non faccio combattimento avanzo cercherò poi di avanzare almeno di altri due spazi così almeno non indietreggio poi vorrei sbloccare della roba prendere dei dadi adesso che ho delle risorse posso costruire vado con questo qua quindi questo deve salire di uno questo deve salire di uno non farò mai più non so se questi qua potrebbero essere due arancioni due gialli vabbè sempre solita storia però faccio azione di costruzione voglio edificio azzurro di questo colore qui quindi mi costa zero conoscenza e i due pietre che ho do via due pietre e vado ad incastrare questo vediamo seguendo questo pattern qui dovrei metterlo in questo modo allora guadagno 3, 6, 10 punti per 1, 2, 3 carte zodiaco che ho quindi in questo caso ho due carte zodiaco faccio 6 points ecco cosa potrei fare allora prima di tutto mando lo speaker da 4 questo è 4 giro incremento anche questo non può fare l'azione colorata ovviamente però faccio un movimento più combattimento lo faccio in questo caso mi muovo combatto quindi il bonus è una pietra lui è sotto di me quindi è considerato essere prima di me quindi faccio solo uno o due punti tuttavia per l'azione successiva mando il mio arconte quindi di nuovo questo sale di nuovo questo sale faccio questa roba un'altra volta un altro passo prendo un token supremazia mi prendo un'altra pietra a questo punto nel combattimento lui è più indietro di me faccio uno due tre quattro punti devo far ascendere i miei dadi da 6 lasciano le loro basette e vanno allegramente in questi posti e qua ho due spazio adesso per i dadi da mettere devo comprare dei dadi questo qua diventa 4 e va a finire così bene allora prima di tutto devo andarmi a comprare dei dadi assolutamente altrimenti è una schifezza allora questo che è il dado di valore 4 spendo subito token superiorità per non far salire quelli adiacenti vado subito forte avrei bisogno di un viola eventualmente potrebbe essere interessante si spendo una pergamena e mi acquisto questo dado poi si slittano andiamo a prendere un altro dado blu adesso vorrei fare di nuovo questa azione di combattimento attacco oppure vado a comprare un altro dado tuttavia posso usare per adesso questo arconte che adesso attraverso la gente morta è diventata anche arancione quindi faccio l'azione bonus arancione che prende lo speaker bianco e ah ovviamente devo aumentare qui e devo aumentare ah no questo è 6 giusto quindi devo aumentare questo a 6 potrei costruire attenzione devo costruire un altro blu che tuttavia è qui in fondo e costa un casino ah tra l'altro mi sono dimenticato alla fine del giro dovevo restituire a caso una di queste carte i pesci allora 5 posso fare questo allora azione ricostruzione ok quindi questo diventa 6 e questi due sono già 6 quindi non incrementano ulteriormente però azione ricostruzione voglio fare questo anche se costa un ciulo pagherò 3 pergamene e una pietra allora la statua mi dice avanzare uno step in un tracciato tempio a mia scelta andrò di pari passo perché è quello più in basso poi cioè quello più in alto viene ignorato quindi conviene andare equilibrati quindi questa qua la metterò lì per seguire questo pattern allora adesso viene rifellato una cosa che non abbiamo detto quando io devo costruire un edificio posso costruirlo dal lato farm cioè dall'altro lato di ogni tessera e mi costa 0 0 pergamene 0 pietre quindi è gratuito ma serve in sostanza per completare queste carte qua per esempio me ne richiede una qualsiasi può essere anche una farm allora vediamo un pochino ho fatto questa menata ho ancora un dado blu da 3 che non può andare qui a questo punto ma può andare qui perché questo è 3 quindi questo va a 4 e questo va a 6 costa tutto un casino allora in sostanza io mi prenderei una risorsa per tipo facciamo così potrei spendere 3 grano più 1 oro per sbloccare la seconda basetta tra l'altro se le sblocco tutte quante faccio 10 punti il che schifo non fa avanza ancora questo deve essere ritirato ci riprendiamo la nostra gente questo diventa 4 questo diventa 5 utilizzerò il mio arconi che ha il colore adesso arancione quindi va bene avanza di 1 questo ritorna a 1 quindi ottimo posso fare azione di costruzione mi prendo un edificio qualsiasi sia gratis quello che costa di più e vado qui quindi un altro di questi tra l'altro al conto mi prendo il dado bianco giusto perché lui è considerato adesso arancione perché adesso veramente ho pochissimi dadi pochi 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 vado a chiudere questo distretto mettendo il dado 4 blu quindi attivo questi due edifici blu allora uno mi dava 3, 6, 10 punti per 1, 2, 3 carte zodiaco farò solo 3 punti va bene questo mi fa avanzare di 1 in un trecetto qualsiasi farò questo quindi ho chiuso quel distretto lì poi cercherò di incrementare l'altezza del distretto ma ovviamente in 5 round che cavolo vuoi fare esatto questo diventa così questi sono già a 6 con il 3 io mi prendo 3 grani poi mi manca questo dado arancione giallo porca di quella miseria potrebbe essere giallo questo costruire di nuovo che palle però mi dà l'altro speaker ma con l'altro speaker adesso con questi valori alti non ci faccio niente però attenzione io ho la carta sempre questa qua dei gemelli che mi dice che l'azione bonus la posso trattare come prendi un oro quindi piuttosto facciamo così ah tra l'altro ho reclamato la carta eh sì eh che cavolo ho fatto questa qui perché ho rosso blu blu e quella lì qualsiasi va bene quindi mi prendo i due ori che è meraviglioso mi faccio anche i 12 punti eh questo qua a sto punto sale così ovvio vado col mio arconte perché questo è 6 diventa 1 e questo diventa 6 ok compro un dado che potrebbe essere quante pergamene ho ho ben 0 pergamene però ho dell'oro attenzione pago un oro come pergamena per prendermi questo viola ok il viola però è a 6 eh cavolo faccio azioni di attacco voglio assolutamente fare azioni di attacco sai che cosa faccio me ne sbatto metto questo da 4 intanto devo dare 2 ori come 2 conoscenze per la differenza azione tac prima di tutto il bonus una risorsa qualsiasi una pergamena azione di attacco giusto il bonus più lui è più avanti ovviamente ma faccio 1 2 3 4 punti l'oro non ne ho più a disposizione il che fa schifo perché non posso far salire il livello della torre mi rimane questo eccolo qui mi rimane questo bellissimo dato da 6 l'unica cosa che potrò fare l'unica cosa che posso fare faccio l'azione bonus e 6 quindi mi prenderò 3 pietre ma non servono una mazza tanto è l'ultimissima azione che posso fare mi prendo le risorse però non ha importanza di nuovo perché l'oro non può essere presa come risorsa da qui a meno che non è specificatamente indicato però 1 2 3 4 punti bla bla in pratica i punti di fine partita in base a Iori che non mi sono rimasti ovviamente in base a questi tracciati non contando quello più in alto quindi praticamente un bel 1 più 1 anche se sono tutti a livello perché farli salire è un casino poi abbiamo questa situazione qui quindi 4 punti per il blu ma la mia torre blu è rimasta 1 quindi farò ben 4 punti di questo e direi che non c'è altro comunque sì è veramente ridicolo cioè la prima partita che ovviamente ero in tutto solitare tutto concentrato sono arrivato a 67 perché comunque sono riuscito a seguirlo inseguirlo e ad andare superarlo nel militare e quindi fare tante azioni di di combattimento qui e fare tanti punti qua in multiplayer ovviamente questa cosa appare un pochino sgravo perché se gli altri non stanno a passo tu continui a fare azioni di combattimento a fare azioni rosse magari hai se c'hai l'ariete una di queste carte che ti dà un punto in più quando combatti per ogni dado rosso e lì incrementa lo sgravo da far schifo però se uno riesce a compensare a fine partita facendo salire molto questi tracciati può essere anche molto renumerativo però da quello che ho visto è questa la situazione in solitario è problematico è problematico perché veramente non si sa come riuscire a raggiungere così tanti punti in così poco tempo perché come vedete qua non abbiamo se fosse un gioco multiplayer non tocchiamo neanche di striscio una condizione di trigger quindi i dadi quindi le carte qua i ori o i dischetti che ci sono qui assolutamente no ma in 5 round 180 punti ma stiamo veramente veramente scherzando qui ovviamente David Turzi è l'uomo super uomo e quindi lui riesce a fare queste cose straordinarie noi invece non ce la faremo mai comunque al di là del solitario che comunque bisogna provare anche la versione indicata sul manuale che ancora non ho provato però a cura di David Turzi probabilmente sarà una corsa contro il punteggio oppure c'è un'automa che in qualche modo ti ostacola fa dei piazzamenti eccetera eccetera non ho ancora guardato ma sono molto curioso in realtà per il gioco multiplayer ovviamente è un gioco molto molto valido se vi piace la meccanica di piazzamenti dadi assolutamente imprescindibile direi molto molto bello però c'è questa problematica che io ho che abbiamo tra l'altro individuato che sarebbe la forza del tracciato militare qualcuno mi potrà contraddire se l'avete giocato di più ma dalle partite di quello che ho sentito probabilmente si lo è quindi questo qua era Origins First Builder e ci vediamo per un altro gioco saluti in Grazie.